Ammontano a 800.000 euro le risorse stanziate dalla Regione Marche per un bando rivolto ai comuni destinato a potenziare i servizi di polizia locale. Un potenziamento pensato per destinare tecnologie più performanti agli agenti nel servizio di sicurezza urbana e di prima sentinella verso i fenomeni di microcriminalità. Il tema è che la polizia locale, che è una materia di competenza delle regioni, fino ad oggi si è occupato solamente nelle grandi città della criminalità cosiddetta micro, ma si tratta di criminalità, si tratta di reati. Quindi noi dobbiamo riuscire a far sì che le nostre polizie locali abbiano le strumentazioni, che i poteri già li hanno dalla legge. La polizia locale ha gli stessi poteri delle forze di polizia dello Stato, sono agenti ufficiali di polizia giudiziaria, ma molto spesso non hanno le strumentazioni, la formazione e così via. Questo intervento è così importante della regione Marche, stiamo parlando di oltre 700 mila euro di investimenti. Servono essenzialmente a garantire che il livello della sicurezza di base, la sicurezza urbana, possa garantire quella cooperazione delle polizie locali con le polizie dello Stato. In sostanza questa materia, che è una materia così delicata perché va a colpire le fasce della popolazione più debole, i ricchi hanno i sistemi di allarme, hanno le guardie giurate e così via. Molto spesso questa criminalità va a colpire le fasce sociali più deboli, quindi noi intendiamo garantire come politiche di sicurezza della regione Marche un livello di sicurezza più alto coinvolgendo appunto la professionalità degli operatori delle polizie locali. Stiamo parlando naturalmente di tecnologie dirette all'accertamento dell'abuso di sostanze stupefacenti, dell'abuso di alcol, stiamo parlando di tecnologie dirette a individuare le autovetture che non sono coperte da assicurazione, RCA, che è un fenomeno molto esteso e molto pericoloso. Poi stiamo parlando anche di tecnologie dirette a inquadrare la scena del crimine, quindi tecnologie diciamo così che sono inquadrate nell'ambito della cosiddetta polizia scientifica. In sostanza la polizia locale che ha i poteri e le funzioni non potrà continuare ad essere considerata una polizia di serie B, ma deve essere annoverata tra le forze di polizia dello Stato, tanto più, come dicevo, per il fatto che è in grado di intercettare fenomeni di devianza prima che diventino reati.